Fin dal 1895, all'inizio cioè dei miei primi esperimenti, io ebbi la forte intuizione, direi quasi la visione chiara e sicura, che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze. Allora, buongiorno da Italia Azzurro 4, Victor Quebec Serra, che sarà bene che faccia su tutta la robina, qua si sta per scatenare l'inferno secondo me. Allora, attivazione pota, Italia Tango 10-20, mi trovo sul versante settentrionale del Monte Zatta, qui sotto abbiamo il lago del Passo del Bocco o il lago di Giaiette e mi trovo proprio nei pressi del Passo del Bocco. Ho voluto provare un setup molto molto particolare. Allora, innanzitutto l'antenna verticale, lo stilo della MFJ, semplice, nudo e crudo, senza bobine. Quindi, effettivamente, un quarto d'onda per la banda dei 20 metri. Una serie di 5 radiali, grossomodo anch'essi lunghi 5 metri, che mi vanno a coprire, mi vanno a fare un buon piano di massa. Il cavo coassiale, molto lungo, lo so, anche lui fa, tra virgolette, da contrapeso. L'apparato, beh, l'apparato è questo, ma poi lo vedrete nel video. Funziona. Era una prova che volevo, ho sempre voluto fare, vedere se con un minimo, ma proprio un minimo di attrezzatura, si riesce a fare qualcosa in fonia. Il CVW esistono apparati anche più piccoli di quello e possono essere convenientemente utilizzati a saperlo, il CVW, o avere la potenzialità di impararlo. Comunque, oggi, 25 aprile, 150 anni della nascita del dottor senatore Guglielmo Marconi, 73 da Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, e a seguire i video dei QSO. 73. 74. 74. Allora, buongiorno da Italia 04, Victor Kaibach Sierra, vinco quasi sempre e come al solito è quasi che mi frega, attivazione pota, minima, dove è la presa di corrente? Banda 20 metri e antena verticale, allora modo, filtro, banda ok, frequency news, frequency is news, the frequency is news, the frequency is news pari tutti no 14.230 Vita e merda Italia Zulu 4 VQS Barrato P Che poi si arrabbiano Frequenza 14.230 14.230 Italia Trastino 10.20 Tentativo di invio Inviato Sicupota 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 Italy Zulu 4 Victor Quebec Sierra Portable QRP Sicupota ECO Alfa One Bravo United Lima 5 5 9 QSL Roger Roger This is the call Alfa One Bravo United Lima 5x7 57 Thank you Bye bye Golf Zero Romeo Quebeco Lima Golf Zero Romeo Quebec Lima 5x9 QSL QSL Good morning Good morning Thank you For the 5x9 You're 5 and 7 57 Alessandro The name here is Don The name here is Don The LFR Oscar November And I'd like to watch you For the clock call sign As well Which is Mike Zero Oscar Mike Charlie Mike Zero Oscar Mike Charlie 57 Author For both calls Alessandro Roger 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 Thank you For Mike Zero Oscar Mike Charlie My power today Is only 2 Watt Only 2 Watt QSL Fantastic Fantastic It's up and down A little bit You dropped down To 5 and 3 On that last over But with conditions You're peaking 5 and 7 It's unbelievable So very very well done On the On the QRP There 7 and 3 And see you Next time Thank you For the part Bye Bye Sugar Mike 3 November Radio Yankee Sugar Mike 3 November Echo Yankee 5 and 9 QSL Sugar Mike 3 November Radio Yankee Sugar Mike 3 November Radio Yankee Hear us QSL QSL My friend Sugar Mike 3 November Radio Yankee 5 and 9 QSL Echo Alpha 1 Fox truck India Charlie Echo Alpha 1 Fox truck India Charlie Over Ok Good morning Alexandro Echo Alpha 1 Fox truck India Charlie 55 Bye bye Five Three Thank you Thank you my friend Echo Alpha 1 Fox truck India Charlie Five 9 Your report Thank you Bye bye 73 Thank you Alexandro Time to 3 Two Echo Zero Echo Sierra Yankee Two Echo Zero Echo Sierra Yankee Five 9 QSL Yes QSL Good morning Thank you for Five 9 Five 5 For you Five and 5 Roger Roger My friend Thank you For 5 5 My power Only 2 Watt Only 2 Watt Today Very Very Minimal QRP Thank you My friend 73 Good day Yeah Ok Fantastic Job Fantastic For 2 Watt 73 Thank you Bye bye Sierra Papa Four Tango Kilo Alpha Sierra Papa Four Please Complete Your call Sierra Papa Four Tango Kilo Alpha Roger Roger Sierra Papa Four Tango Kilo Alpha Five Nine QSL 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 Alexandro Sierra Papa Four Tango Kilo America Euro 55 73 Bye bye 73 My friend Thank you Bye 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 5 5 5 5 7 Rapporto Citone Montenegro Quest 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 My friend From Montenegro Please Repeat Your call Repeat Your call Thank you My call 4 Ontario 3 Radio Radio, 4 Oscar 3 Roma, Roma Roger Roger, thank you my friend, 4 Oscar 3 Radio Radio, 4 Oscar 3 Radio Radio, grazie 5-9 per il log, grazie ancora, buona giornata Grazie a 10-5-9, FISA e QRP, QRP QRP for QRP, very good, thank you, bye bye Allora, io copiavo, in India Uniform 2 Roger, Roger Marco, Italia Uniform 2, hotel Mike Whiskey Guarda, ho solo due BAP, sto lavorando con la verticale, sto lavorando con la verticale QSL Eco Alfa 4, hotel Sierra Charlie Eco Alfa 4, hotel Sierra Charlie, correct Roger, Roger Thank you my friend, Eco Alfa 4, hotel Sierra Charlie, 5-9, reference photo Italy, 1-0-2-0, QSL Oscar, hotel 3, Golf Zulu Oscar, hotel 3, Golf Zulu, correct Thank you to you my friend, your report is 5-9, real 5-9, QRP station, only 2 Watt, thank you, bye bye, 73 Over Path to Park Roger, Roger, Italia Tango 9, Eco Whiskey Papa, io ti passo la referenza, Italia Tango 10-20, Italia Tango 10-20, QSL Roger, Mike 6, Bravo, Lima Victor, 5-9, QSL Thank you to you my friend, thank you, 73, bye bye Very happy Thank you, everybody Thank you so much Thank you Thank you Thank you Grazie a tutti